I Nass hanno controllato 413 centri sportivi tra Lazio, Emilia Romagna, Abruzzo e Toscana e un terzo circa non erano in regola. I carabinieri del nucleo antisofisticazioni volevano verificare il rispetto della normativa sul rilascio dei certificati medici per lo svolgimento della stessa attività sportiva, spesso concessi con troppa facilità. Le ispezioni hanno accertato violazioni per 11 centri, tra cui non solo palestre ma anche piscine e ambulatori sportivi. 7 sono stati sospesi a causa delle gravi irregolarità, l'assenza del defibrillatore salvavita, l'obbligatorio nello svolgimento dell'attività sportiva, l'aver aperto all'interno delle palestre degli ambulatori in assenza delle previste autorizzazioni, il rilascio di certificati medici da parte di medici non autorizzati. In altri 7 casi la sospensione è stata richiesta, ma non ancora concessa dalla magistratura. Complessivamente 81 le persone denunciate, 9 quelle che hanno subito provvedimenti cautelari, per ben 176.000 euro di multe.